cari mamma e papà vi auguro un buon Natale e spero di rivedervi presto, vi voglio bene, non mi mancava ti amo buon Natale, ti voglio bene ti voglio bene papà auguri mamma e papà per cosa amore? si vedi le mani dalla bocca auguri di buon Natale te la vuoi fare sentire, la vuoi sia mamma e papà? no dai che sono contenti no ti vergogni? poi ce la leggo a casa e se la dimentichi? la sai ma te la dimentichi? va bene e allora ok manda in bacio a papà mamma no di là di là ti amo bacio buono? buono? brava ci voglio bene papà e mamma e poi cosa gli dobbiamo fare? bacio gli auguri? per cosa? un buon Natale ok brava mandi un bacio a mamma e papà aspettite bene con la manina con la manina manda un bacio con la manina insieme a Cicciabello tu glielo devi mandare a mamma e papà brava auguri a mamma e papà buon Natale ti voglio bene ti voglio bene ti voglio bene a tutte tue auguri a mamma e papà vi auguro un buon Natale e spero di rivedervi presto vi voglio bene vi voglio bene vi voglio bene vi voglio bene ciao